Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine solito, usuale, consueto della mia libreria. Allora, torniamo a indossare le magliette della mia collezione di piccole perle calcistiche con un'autentica sciccheria, perché quest'oggi indosso la maglietta del Vellasnimi, che è una squadra di calcio kosovara, niente meno i pensierini che mi fanno gli amici che girano un po' per l'Europa. Io, come sempre, essendo povero come la merda, non mi posso assolutamente schiodare da casa, ma vabbè, lasciamo stare. Allora, cari signori, questo video tratterà un argomento piuttosto particolare, perché ho recuperato qualche giorno fa un romanzo del 2007, ovvero sia questo, un romanzo scritto da Giorgio De Rienzo intitolato Il mostro di Bargagli, una catena di delitti, un segreto custodito per 50 anni. Certe volte è meglio rimanere ciechi piuttosto che accettare una verità scomoda, ma non si possono chiudere gli occhi per sempre. Allora, questo romanzo ci parla di uno dei fatti più oscuri collegati alla resistenza italiana, ovvero sia il cosiddetto mostro di Bargagli. Allora, l'introduzione di questo romanzo ci dice che tra il 1961 e il 1983 una impressionante sequenza di omicidi insanguina Bargagli, un paese sulle colline genovesi della Val Bisagno. Uomini e donne, apparentemente senza nemici, vengono trovati morti con la testa fracassata da una pietra. Ce n'è quanto basta, almeno alla stampa, per parlare di un mostro e scatenare la fantasia di quanti negli omicidi vogliono vedere un filo conduttore. Due indagini della magistratura vanno a scavare nel passato, scoprono connessioni tra quelle morti e stragi avvenute durante i giorni convulsi della liberazione, ma non arrivano a risultati concreti e vengono sepolte sotto l'ostinato silenzio di tanti. La teoria del mostro, ideale per vendere qualche quotidiano in più, non convince Francesco che ha seguito come cronista i primi omicidi e ha continuato a studiare per anni l'intera vicenda, spinto da un'attrazione inquietante. Sente infatti di avere dentro di sé, nascosto in un angolo della coscienza, il germe di una verità diversa. deciso ad allontanare la fastidiosa sensazione ad ogni costo, torna nel borgo dove è trascorso l'infanzia per scavare nella propria memoria. Potrebbe essere la volta buona per abbattere il muro di omertà alzato con ostinazione dagli abitanti di Bargagli, custodi di un segreto impenetrabile, ma anche per scavalcare la barriera imposta da politici timorosi che possa essere scalfito il mito puro della resistenza. Sostenuto da un ritmo incalzante e da una scrittura di straordinaria nitidezza, il nuovo romanzo di Giorgio De Rienzo, libero da ogni pregiudizio e conformismo ideologico, porta finalmente chiarezza su una delle vicende più oscure e imbarazzanti della nostra storia recente. Allora, il mostro di Bargagli di Giorgio De Rienzo. Allora, che cos'è questo benedetto mostro di Bargagli? Allora, per quanto vi possa sembrare strano, il sottoscritto è un grande estimatore di chi l'ha visto e la vicenda del mostro di Bargagli fu ampiamente trattata nel corso delle primissime puntate di quella trasmissione, quando era ancora condotta dalla mitologica Donatella Raffai, la donna che grondava umanità da tutti gli artigli. Non so se ve la ricordate. Vabbè, scusate, faccio ironia, è un pochino la mia cifra stilistica, ma qui c'è poco da scherzare perché ci abbiamo veramente a che fare con una catena di omicidi che è partita dal 1943 ed è arrivata fino al 1983. 40 anni giusti in cui questo piccolo paesino ligure, Bargagli, è stato insanguinato da una brutale catena di omicidi. Durante la guerra, allora, durante la guerra ci sono stati omicidi, vendette, attentati, sparatorie e quant'altro, più o meno tutti riconducibili alla cosiddetta Banda dei Vitelli. Che cos'era questa Banda dei Vitelli? È presto detto un gruppo di criminali comuni che si era unito alla resistenza per farsi gli affaraci propri, ovvero sia rapina, rapine, furti, taglieggiamenti, mercato nero di carne, cioè il nome, la Banda dei Vitelli derivava dal fatto che questi qui gestivano praticamente il mercato nero delle carni macellate clandestinamente dai contadini che garantivano un bel po' di soldi. Dopo l'8 settembre questo gruppo di criminali comuni entrò nella resistenza. Insomma, io l'ho sempre detto, cioè la resistenza, allora, i partigiani non tutti erano santi, non tutti erano persone per bene, non tutti i partigiani avevano motivazioni limpide, ok? Anzi, anzi, tanti, tanti partigiani avevano motivazioni decisamente poco pulite e poco nobili. Basti vedere quello che dissi in un video tempo fa citando il meraviglioso diario del giovane partigiano ebreo del partito d'azione Emanuele Artom, che descriveva come i partigiani fossero in realtà uomini come tutti gli altri, con i loro pregi, con i loro difetti, con alcuni con motivazioni alte ed elevate, altri con motivazioni ben più pratiche e terrene. Oibo, lo ha detto un partigiano ebreo del partito nazione, praticamente c'è il certificato, se vogliamo, dell'antifascismo. Ecco, dicevo, Emanuele Artom descrisse molto bene chi erano in realtà i partigiani. Gente che aveva scelto la via della montagna perché o non voleva combattere con Mussolini, o ci aveva il proprio tornaconto, o aveva combinato qualche casino e scelsero la via della montagna per, diciamo, i cavoli loro. Ci furono anche tanti criminali che entrarono nella resistenza per farsi gli affari loro, come quelli della banda dei Vitelli, come quelli che si resero protagonisti dei fatti del mostro di Bargagli. Praticamente una catena di omicidi durata dal passaggio, insomma, dal 1943 fino al 1983 che ha insanguinato questo piccolo paese in Liguria. Allora, siamo sinceri, il romanzo di De Rienzo, e sottolineo, romanzo, 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 non libro di storia, non libro frutto di ricerche archivistiche e storiografiche, romanzo, opera di fiction, romanzo, romanzo, la sapete la differenza tra romanzo e libro di storia? Questo romanzo giallo, siamo sinceri, oggettivamente non è un granché, non mi è piaciuto molto, ma sia chiaro non perché parla male della resistenza o perché pretende di svelare un segreto che è stato ferreamente custodito per più di 40 anni. No, è semplicemente perché è un romanzo mediocre. Io l'ho trovato banale come struttura, come modalità di narrazione, io sinceramente l'ho trovato banale. Leggetelo se volete, a me, ripeto, a me personalmente è sembrato banale, ok? Niente di particolarmente nuovo. Diciamo che ha sfruttato molto furbescamente la scia del sangue dei vinti di Pansa, ok? Però almeno questo romanzo, questo romanzo, afferma testualmente di essere un romanzo e non un'opera storiografica come pretende di far credere Pansa, ma questo è un altro discorso. Dicevo, il romanzo di De Rienzo, per quanto banale, per quanto non eccelso, può essere utile per far capire una certa mentalità che ha permesso a quelli della banda dei Vitelli di continuare ad ammazzare praticamente per 40 anni filati. Perché? Un paesino, allora, sapete anche voi, io vivo in un paesino della campagna marchigiana e i paesini delle campagne italiane, delle colline delle campagne italiane, bene o male, sono tutti uguali, tutti si conoscono fra di loro, c'è un forte senso della comunità, però c'è anche da dire una cosa, c'è una forte omertà, da sempre, ovunque. L'omertà non è solo una caratteristica della Sicilia o della campagna o della Calabria. Dicevo, praticamente, come dire, una scia di sangue, dicevo, l'omertà non è una caratteristica esclusiva del meridione d'Italia. L'omertà non è una caratteristica esclusiva del sud Italia. L'omertà è un cancro che divora da sempre il nostro paese. Fateci caso, ok? Allora, dicevo semplicemente questo. Una omertà ferrea, una totale e assoluta incapacità di penetrare il mistero delle cosiddette morti causate dal mostro di Bargani. Cioè, si parla di circa una decina di persone tra il 43 e l'83 ammazzate nei modi peggiori. Un appuntato dei carabinieri brutalmente torturato e assassinato, due partigiani delle Brigate Giustizia e Libertà eliminati da una bomba a mano, uno stilicidio di morti misteriose e brutali che, ripeto, ha segnato violentemente Bargagli per 40 anni, senza che nessuno parlasse. Perché? Ripeto, omertà. La mentalità mafiosa non è una caratteristica propria soltanto del sud Italia, ripeto, ma l'omertà è una caratteristica italiana. Non stiamo tanto a girarci in tondo. Essere omertosi in Italia è una condizione in certe zone, anzi per certa gente, essere omertosi è una condizione naturale quanto il respirare, il mangiare e l'andare in bagno. Però, insomma, che vi posso dire? Questa del mostro di Bargagli rimane una delle pagine più oscure, più misteriose, più tetre collegabili alla resistenza italiana. In pratica, questo gruppo di criminali comuni, questo gruppo di ladri di bestiame che si era unito alla resistenza per il proprio torneconto e si macchia durante la guerra di alcuni brutali omicidi. A quanto pare, perché nulla è mai trapelato di serio, diciamo così. Finita la guerra, la banda torna, la cosiddetta banda dei vitelli, torna più o meno ad una esistenza normale e a quanto pare la banda dei vitelli si era appropriata della cassa, insomma, dei soldi appartenuti ad una divisione tedesca in fuga verso il confine settentrionale. Insomma, è tutto un sembra, è tutto un ma, è tutto un sembra, è tutto un si dice. Allora, io sono anni che cerco, come dire, materiale sul cosiddetto mostro di Bargagli e sulla cosiddetta banda dei vitelli, ma oggettivamente molto non si trova. Perché? Allora, innanzitutto è vero, è scomodo accettare per certa gente il fatto che ci furono dei partigiani che in realtà erano criminali comuni che facevano i loro interessi sotto la bandiera della resistenza. Punto. Credo che sia una verità solare. Insomma, quelli della banda dei vitelli erano certi fenomeni, detta così come è. Un altro che mi viene in mente è quella spaventosa carogna di Marozin, l'uomo che fece fucilare Osvaldo Valenti e Luisa Ferida, praticamente per vendetta personale. Ma focalizziamoci un attimo su quanto raccontato, cioè su quanto raccontato da De Rienzo nel mostro di Bargagli. Praticamente la storia, ripeto, la storia è molto semplice. Un gruppo di criminali comuni si unisce alla resistenza per farsi gli affari propri. Niente di più e niente di meno. Si vendicano del carabiniere che li ha fatti arrestare prima dell'8 settembre 1943, lo fanno fuori in maniera terribile, brutale e violenta, e si impadroniscono della cassa di questa divisione tedesca in fuga, a quanto pare, ripeto, a quanto pare, si impadroniscono dei fondi di questa divisione tedesca, insomma si parla di una somma molto importante per l'epoca di circa un centinaio di milioni di lire, che, insomma, per l'epoca era veramente un gran bell'andare, se vogliamo, insomma. Solo che che cosa succede? Succede che molto probabilmente, allora tenete presente una cosa, l'avidità è una gran brutta bestia. Uno. Quando qualcuno ammazza va a finire che prima o poi ci prende gusto. Due. Tre. Tre. La scarsa voglia di andare a rimestare certe brutte storie. Quattro. Quattro. La mentalità omertosa di chi ha coperto volontariamente o meno gli assassini della banda dei Vitelli. Non è una pagina gloriosa della Resistenza, indubbiamente, non è una pagina propriamente onorevole per il popolo italiano. Tutti, perché siamo sinceri, non è che ci facciamo una bella figura, un gruppo di carogne, un gruppo di spaventose carogne, che tiene in ostaggio per quarant'anni un intero paese. Perché? Perché durante la guerra si erano spartiti un gran mucchio di soldi che gli erano capitati tra le mani facendo i partigiani. E qui, è tutto qui, molto probabilmente. Allora, la verità vera sul Mostro di Bardagli non è mai stata scoperta. E probabilmente non verrà mai scoperta. Il mediocre romanzo di De Rienzo ne fornisce una soluzione, ma oggettivamente, ripeto, il libro in sé e per sé, come giallo, come romanzo, come scrittura, è secondo me banale, banale, banale. Niente di più, niente di meno. Io spero che il dottor De Rienzo non se l'abbia con me. La mia è soltanto una libera opinione. Qualche libro anche di narrativa me lo sono letto e sinceramente penso che questo libro non sia un granché. Ripeto, ha il merito di accennare a certe cose poco conosciute. Quello che è emerso in seguito sul Mostro di Bardagli, però, siamo sinceri, non è che sia molto. È il trionfo del sembra, del si dice, del pare, del si racconta, forse, ma sembra che si dì. Insomma, non c'è niente di concreto. E questo è il problema. Di concreto c'è soltanto la decina di morti che si sono susseguiti dal 43 all'83. Molti morti dei quali hanno una firma. Una, la testa rotta a sprangate. Una firma. Cioè, più firma di così, un serial killer, più serial killer, qualcuno che voleva coprire qualche cosa di innominabile, interessi... Insomma, noi non lo sappiamo, non possiamo saperlo, e probabilmente non lo sapremo mai, perché i protagonisti ormai sono morti. A Bardagli hanno cercato veramente di far dimenticare la cosa... hanno veramente cercato di far dimenticare la cosa in en passant, glissando così. Quando ci fu l'ultimo omicidio, arrivarono le telecamere di... arrivarono le telecamere di... chi l'ha visto? Io ricordo abbastanza bene il... ero giovane, però come dire, già certi argomenti mi interessavano, e io mi ricordo molto bene che la troupe di chi l'ha visto non fu accolta molto bene a Bardagli. Anzi, anzi. Ricordo di aver letto articoli di giornale e servizi televisivi in cui si accennava veramente ad un'atmosfera plumbea, ad un'atmosfera, tra virgolette, pesante per chi cercava di fare domande in quel paese, né più né meno come quando vai a Corleone, come quando andavi a Corleone negli anni Ottanta e chiedevi di Totò Riina. Più o meno, più o meno, più o meno, ripeto, più o meno, la situazione era quella. Insomma, il mostro di Bardagli è stato, è tuttora, uno dei misteri più oscuri della storia d'Italia. Morti, cioè persone assassinate senza un apparente motivo, senza un perché, in un paesino altrimenti anonimo nelle colline Liguri. Non si sa veramente i motivi di questa scia di sangue. Cioè, se andate sulla pagina Wikipedia dedicata al mostro di Bardagli, c'è la lista dei morti attribuita a questo ipotetico serial killer. Ripeto, il serial killer è ipotetico. I morti, con la testa spaccata abbastonate, sono purtroppo reali e non si sa perché. Sicuramente questi personaggi apparentemente erano collegati tra loro. Ma del resto, ce la direi una cosa, Bardagli è un paese piccolo, tutti conoscono tutti e quindi sicuramente qualcuno sapeva qualche cosa. Ma oramai, a distanza di 36 anni dall'ultimo omicidio, molti dei protagonisti sono morti, i ricordi sono svaniti, le nebbie della memoria hanno coperto un passato scomodo, un passato in cui forse, anzi quasi sicuramente, c'era qualche cosa da nascondere. Ma ripeto, rimaniamo nell'ambito delle teorie, delle possibilità. Di sicuro c'era un gruppo di criminali che si sono uniti per i loro comodi alla resistenza, criminali che si sono arricchiti che si sono arricchiti durante i terribili anni di guerra e nei primi tormentosi, violenti e caotici mesi del dopoguerra e ci sono di mezzo molto probabilmente c'è di mezzo ci sono di mezzo i soldi i soldi tanti, tanti, tanti soldi qualcuno voleva parlare qualcuno ha sbagliato qualcuno forse ha detto cose che non doveva dire qualcuno forse voleva tenersi il bottino tutto per sé e per questo molte persone sono state uccise probabilmente. Ripeto, se guardate la pagina wikipedia dedicata al mostro di Bargagli vi accorgerete che la bibliografia le fonti sono tutto sommato una cosa piuttosto limitata si rimandano ad articoli di Libero ad articoli di Il Giornale si rimanda giusto appunto alle inchieste giornalistiche degli anni Ottanta quando si cercò di fare chiarezza su questa scia di sangue che si era srotolata in interrotta dal 43 fino all'83 ma non se n'è mai saputo niente di preciso mai e purtroppo ripeto a titolo personale temo che la verità sul mostro di Bargagli non verrà mai a galla. Il romanzo di Gregorio De Rienzo ripeto non è oggettivamente niente di memorabile però come dire può servire magari a spiegare il perché il caso del mostro di Bargagli sia rimasto come dire irrisolto e non se ne sia mai saputo ripeto una brutta storia di violenza di morti di crimini impuniti di gente che aveva pochi scrupoli di gente che in nome dei soldi diciamo si sarebbe mangiato il cuore della madre del padre e dei figli sì perché sapete bene i soldi possono tutto soprattutto io non voglio giustificare nessuno ma in un ambiente come quello delle campagne delle delle colline liguri degli anni 40 dove la povertà regnava sovrana dove la miseria era signora e padrona delle vite degli abitanti la gente di pochi scrupoli la gente disperata si faceva pochi scrupoli per riempirsi la pancia e per riempirsi le tasche soprattutto quando c'è la guerra c'è la guerra tira fuori io lo dico sempre la guerra tira fuori a volte il meglio dagli uomini a volte il peggio o il molto peggio degli uomini e oggettivamente quelli della banda dei vitelli di Bargagli erano dei criminali hanno commesso tutti quegli omicidi non lo so non lo so non non lo posso sapere i miei limitati mezzi non mi consentono di indagare di stabilire chi ha ucciso chi e perché ci sono le voci ci sono i si dice ci sono i sembra ci sono i pare ci sono alcuni ricercatori che hanno fatto alcuni collegamenti a proposito dei personaggi legati alla banda dei vitelli e degli omicidi che hanno insanguinato Bargagli per 40 anni ma non c'è niente di sicuro e inoltre in un paesino così piccolo ripeto dove è molto facile dove tutti sanno tutto di tutti dove tutti parlano se non stai zitto se non stai attento se 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 non sai tenere la bocca chiusa è molto facile che ti ritrovino in una via buia con la testa rotta da una sprangata perché questo è quello che è successo ad almeno cinque persone dagli anni sessanta più o meno fino al 1983 tutte persone legate alla insomma persone legate alle vicende di Bargagli durante gli anni dell'occupazione tedesca e ci sono sicuramente delle cose poco limpide ma ripeto si tratta sempre e comunque di ricostruzioni a posteriori che mancano di prove ci sono degli indizi ci sono dei collegamenti ci sono delle come dire cose che si incastrano fra loro ma non ci sono prove perché perché l'omertà l'impossibilità di come dire penetrare l'omertà l'impossibilità di sapere che cosa i testimoni venivano fatti fuori il tempo ha portato via con sé tutti i testimoni o quasi e questo ci impedisce molto ci impedirà molto probabilmente di conoscere la verità sulla banda dei vitelli e sul mostro di Bargagli tutto questo quindi cari signori ripeto anche se non è un granché provate a dare una lettù insomma leggetevi un po' procuratevelo questo libro di Giorgio De Rienzo intitolato il mostro di Bargagli ripeto non è un granché non mi è piaciuto ma può rendere l'idea del perché i delitti della banda dei vitelli siano rimasti coperti e impuniti per tutto questo tutto qua quindi cari signori io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione come sempre aspetto i vostri commenti come sempre aspetto le vostre considerazioni come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate come sempre arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao ciao ciao